buongiorno sono il dottor vincenzo altieri vi parlerò di ipertrofia prostatica e di nuove frontiere terapeutiche l'ipertrofia prostatica come sappiamo tutti è l'ingrossamento della ghiandola prostatica che alcune volte diventa ostruttiva per quanto riguarda la minzione quindi si manifesta dal punto di vista clinico con disturbi a urinare difficoltà a urinare e altri sintomi quali la nicturia cioè l'alzarsi di notte a fare la pipì o la minzione frequente il trattamento può essere inizialmente orale ma quando la terapia farmacologica assunta per bocca non funziona più non è più efficace a quel punto è necessario mettere in atto delle strategie chirurgiche oggi abbiamo delle novità che ci consentono di eseguire l'intervento in mini invasività addirittura in anestesia locale con un ricovero di un giorno preservando la normale funzionalità maschile che è l'eaculazione mi riferisco all'ultima tecnica che è l'ablazione la termoablazione laser interstiziale che viene eseguita mediante la punzione della denoma prostatica attraverso due aghetti sottilissimi da anestesia locale e da questi aghetti viene emanato un fascio diciamo che crea una coagulazione del tessuto prostatico e che viene poi necrotizzato altre tecniche più diciamo aggressive sono quelle transuretrali ricordo la resezione transuretrale della prostata la cosiddetta turp oppure l'ultima tecnologia laser che è il laser a luce verde c'è il grillaser che determina non più una resezione del tessuto ma una vaporizzazione del tessuto adenomatoso in eccesso grazie a tutti grazie a tutti